Ma a parte l'inizio qualche occasione per l'Urbia, poi tutto bello? No, se guardi il risultato sembra una partita molto semplice, ma non è stata così perché quando affronti una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi c'è sempre difficoltà a livello mentale. La prima cosa che ho chiesto alla squadra è questa, di approcciare, di essere aggressivi, di vincere i contrasti e poi dopo tutto il resto, l'aspetto tattico, la qualità offensiva, passano al secondo piano. Così è stato, infatti nei primi minuti l'Urbia ci ha attaccato comunque con tanti uomini, è riuscito a portare tanti uomini in aria, abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo concesso qualche corner, poi dopo piano piano siamo riusciti a prendere in mano il gioco. Quindi sono stati molto bravi per questo, le partite le facciamo diventare facili noi se diamo il 100% sotto tutti gli aspetti, altrimenti può essere complicato dopo vincere. Immaginava che l'Urbia potesse ritoccere? Ma l'Urbia purtroppo ci sono annate che pur avendo giocatori di spessore ci sono annate negative. quindi non è facile, non è facile digerire magari un momento così dove comunque i risultati vengono meno, la posizione in classifica non è ottimale, non è facile giocare una partita così difficile con tanta pressione, quindi purtroppo ho visto una squadra che ha lottato, ci ha provato però siamo stati bravi noi a tenere botta e affrontare bene il match.